benvenuti a questa edizione di per sempre news ovviamente parlando del sport in generale iniziamo la nostra rassegna sportiva con il calcio il match principale della giornata di serie a sarà atalanta fiorentina match che si giocherà il 15 settembre alle ore 15 e l'arbitro sarà sacchi per quanto riguarda invece la serie b è pronta a riaprire i battenti per tornare in campo dopo la sosta delle nazionali la prima sfida sarà dedicata ovviamente all'anticipo del venerdì e il venerdì porterà al dino manuzzi tra cesena e moderni programma venerdì 13 settembre alle ore 20 e 30 il match sarà arbitrato da bonaldi per quanto riguarda le altre gare principali breccia frosinone sabato ore 15 sarà da ghercini cittadella catanzaro sempre alle ore 15 di sabato da feliciani la juve stabia che affronterà il palermo nel derby siculo dall'arbitro sozza di reggio calabria per quanto riguarda invece il cosenza affronterà la sampodoria con collo mister con un post su instagram il portiere rumeno anton siprian tataruciano ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato il manchester city invece ha presentato una nuova divisa ovvero la definita il city per la stagione 2024 2025 ovviamente è stato progettato grazie al musicista leggendario ovvero noel gallagher passiamo al tennis con il vt di guadalaiara oggi in campo martina trevisan che ha affrontato renata zarazua per 6 4 6 3 mentre lucrezia stefanini affronterà marie bosu scoffa nel vt di monstreet lucia bronzetti affronterà oggi anne lee mentre per quanto riguarda il doppio lucia bronzetti e jolie burrage affronteranno anna bliscofa e maya sheriff per quanto riguarda la coppa davis l'italia in vantaggio 2 a 1 sul brasile passiamo al ciclismo trionfa l'italia ai campionati europei a cronometro grazie ad eduardo affini ciclista italiano è riuscito a chiudere la prova in 35 minuti e 15 secondi battendo stefan kung di 10 secondi e mattia cattaneo di 20 secondi un primo e un terzo posto importante questo per la nostra italia che ha saputo battere i migliori corridori soprattutto stefan kung nella lotta contro il tempo un segnale forte questo per il commissario tecnico daniele bennati in vista della prova su strada di domenica per quanto riguarda invece la cronometro femminile la vittoria è andata allotte kopecki battendo helen van dink e christina schwindbeberg clement champusine invece ha vinto il giro di toscana il ciclista dell'arche a bnb hotels abbattuto michael sturer della tudor e jordan jesat della total energy è stata una corsa interessante questa vinta dal corridore della squadra francese che riuscita con grande maestria abbattere in volata un vero e proprio arsenale come quello di storere e staccare tutti gli attraversari migliore italiano domenico pozzovivo della wf gruppo bardiani csf faizanè in sesta posizione per quanto riguarda il golf al proctor championship saranno presenti saith tigala maverick mcgnil e mark uberd passiamo ai motori con la nascar kyle larson annunciato che correrà la nel 2025 la mitica 500 miglia indianapolis valida per il campionato entity in the car series nella palla vol nella palla nuoto la proreco vaterlo ha ricevuto il diritto di disputare all'euro cup 2024 25 ovvero la seconda competizione europea per quanto riguarda invece i campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle ottimo risultato di benedetta altezza che in encatreda nello short program senior individuale ha dimostrato grande abilità per quanto riguarda invece beach social italia germania 43 al supplementare questo è il ricordo del 1970 nella partita del secolo che torna prepotente nella spiaggia di alghero la nazionale di beach social vince la seconda sfida dell'europea un successo davvero sudato arrivere arrivato all'overtime con questa notizia è tutto vi auguriamo una serena giornata grazie 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 grazie